Buongiorno ragazzi, io sono Leo Freestyler, sono Ravidu perché ho portogliato di calcio di freestyle. In questo periodo collaboriamo con FreeX Italian per cercare di raggiungere i 100.000 iscritti. Quindi mi raccomando, passate sul mio canale, link in descrizione, e iscrivete al canale FreeX Italian e andiamo al video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.